C'è gente che ancora un po' non dormiva la notte. Settimana scorsa ho messo a confronto, ho sfidato due indicatori molto famosi e per farlo ho utilizzato un time frame che non usa praticamente nessuno. Ho messo l'SP500 a 460 minuti. Quindi non più daily, non più a 60 minuti, 5 minuti, 30 minuti, tutti quelli che utilizzate voi normalmente, quotidianamente. Un time frame un po' strano, assurdo. In tanti hanno commentato sotto quel video chiedendosi cosa ci trovassi in questo time frame. L'ho fatto solo per fare un po' scena e in questo video vi rispondo con tre motivazioni molto precise, ma soprattutto l'ultima. Quindi rimanete fino alla fine perché sono questioni molto importanti, ne va il vostro portafoglio. Quindi perché ho utilizzato un 460 minuti. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video. Io sono Francesco Puzzi, sono un trader a tempo pieno dal luglio del 2017 ed è lunedì. Riaprono i mercati anche se qualcosa è chiuso per il Labor Day, ma si ritorna a lavorare bellissimo, un giorno più bello della settimana da 6 anni abbondanti a questa parte. Quindi, ok, bando alle chance, volevo solo trasmettere la mia felicità. Motivo numero uno per utilizzare il time frame 460 minuti. Ragazzi, funziona. Cioè, banalmente fa performance molto importanti. Questo è un time frame a 460 minuti applicato a oro. Qua vedete le performance. Nel 2023 8700 dollari. Parlo solo delle performance out of sample, ovviamente. Se volete andare nei dettagli, stoppate il video. Questo è sul Nasdaq, sempre a 460 minuti, oppure sull'SP500. Banalmente, questo è un time frame che funziona, che ci permette di fare soldi e quindi ha senso utilizzarlo. Motivo numero due. La diversificazione avviene anche per time frame, o meglio per lunghezza del trade, ma comunque non entriamo nel dettaglio, poi nel master scocchierello nel caso approfondisco. Nel momento in cui ho tre trade in system, uno a 5 minuti, l'altro a 460 minuti e l'altro daily, diversifico anche per time frame. E diversificare è sicuramente una cosa che funziona. Anche perché è un time frame poco battuto. Se hai paura che ti freghino i trade sul time frame daily, se hai paura di time frame troppo utilizzati, di livelli troppo utilizzati, un modo potrebbe essere utilizzare un time frame atipico come 460 minuti. Allargare i propri orizzonti, testare, è una cosa che si riesce in modo molto facile col trading automatico, proprio perché bastano tre righe di codice e 3Station o Multichart si dà la risposta. Devi stare lì mesi a vedere sul grafico, a prendere, a registrare come fanno i trader discrezionali. Al di là di questa faida discrezionale sistematico, è un attimo testare cose nuove. Quindi testalo questo 460 minuti, fidati. Motivo numero tre. E qua voglio che presti attenzione. Perché come ti dicevo, come ti ho promesso, questo è il motivo forse più importante in assoluto. Presta bene attenzione. A 460 minuti puoi trovare un vantaggio diverso. Puoi trovare dei movimenti di prezzi diversi. Ti sei mai incagliato, bloccato nella costruzione di un sistema perché non ottenevi le performance adeguate, un average trade troppo basso, un drawdown troppo alto, allora metti il filtro, non ti raccapezzi. Non ti sei mai bloccato nella scrittura di un trading system. Se scrivi trading system è molto probabile che sia successo. Bene, variare, testare, testare time frame differenti ti permette di ottenere maggiori performance senza per forza dover raggiungere un filtro. Quindi mantenere il trading system semplice ma migliorando le performance. E i tre esempi banali che ti ho mostrato prima lo dimostrano. L'average trade è sempre molto alto su oro 276, sul nasdaq 276, su sp500 270 e si può fare anche meglio. Se io tolgo un filtro e ottengo comunque performance molto buone, capisci anche tu che garantisco una maggiore durata per il mio trading system. E questa è una cosa molto importante. Se vuoi tradare dei trading system a 460 minuti, iscriviti pure a Bats Elite Circle. Perché questo mese, ad esempio, c'è proprio un trading system tra quelli che ti ho fatto vedere, quello su sp500, che lavora a 460 minuti. Bats Elite Circle è il circolo in cui ogni mese ti mette a disposizione 15 o 40 sistemi. scelti da me, tra i migliori, dei migliori, dei migliori, dei migliori, ogni mese, miei disponibili, più il consierge, un supporto 24-7 che ti permette di fare mille cose, risolvere tutti i tuoi dubbi, andare live il prima possibile, senza alcuna preoccupazione. Credo di aver detto tutto, ma soprattutto, chi ti dà queste informazioni gratis? Parliamoci chiaro. E allora iscriviti a sto canale, metti mi piace, condividi, commenta, e fai tutte queste cose che ti costano un secondo, ma come è, oh, è come mangiare un cucchiaino in tirami su? Eh, è una bella botta di serotolina, si chiama, non lo so, comunque, iscriviti pure al Bats Elite Circle, al canale, al Bats Elite Circle, cliccando qui sotto, info.ca.batsfe.it, numero verde 800 475 300, e ci vediamo al prossimo video, mercoledì. Ciao!